Ciao Milano! Un saluto da Merck e Cremont. Benvenuti a Vespa, The Sound of Europe Tour. Milano è la nostra città. Ve la faremo vedere e ve la faremo sentire in sella al mezzo più cool. Vespa elettrica. Gio, ma sai che tutto questo movimento mi ha messo un po' di fame? Andiamo al solito posto? Eh! Ma quanti panzerotti avremmo mangiato? Tutte le volte che bigiavamo a scuola, era un bel buono. Però era più bello quando andavamo a fare shopping. Milano è la capitale dello stile. È qui che nascono le nuove tendenze. Ma tu lo sai che con i primi soldi che ho guadagnato probabilmente sono venuto qua a tagliarmi qualche sfizio? Certo Gio, ma ce l'ho anch'io. Come fai a ricordartelo? Come ti pare questo outfit? Eh, sei bello fresco. Non mi ha fatto? Eh, roba. Io l'ho apposto, te lo dico. Io l'ho apposto così. Così? Ma che roba, ti ho portato anche al mare a Milano. Gio, ma non scherzare. Questa è un'iniziativa importantissima per ricordare a tutti salvaguardare gli oceani e chi li abita. Eh, mi fa sto scherzando. E allora dimmi l'ultima cosa sostenibile che hai fatto. Beh, innanzitutto ti ho portato con la vespa elettrica fino a qua. No, hai ragione, hai ragione, è vero, è vero. In questi ultimi anni Milano si è trasformata. Ma la nostra zona preferita resta quella storica. Eh sì ragazzi, qui in Ticinese c'è proprio un good vibe. Benvenuti nel tempio dell'arte e del design. E da stasera anche della magia. Questa notte è tutta nostra, dettando più l'Ottivezza. Tutti quanti con le barri? Ragazzi, che giornata e che notte, con la miglior musica e con vespa elettrica. Volete provare anche voi? Catturate il suono dell'Europa. The Sound of Europe. The Sound of Europe